Mister cari, adesso sorridiamo a 360 gradi perché dopo domenica che l'ho stuzzicata con la vittoria dell'Avano oggi è arrivato un calcio bellissimo, le faccio i complimenti perché la squadra rispetto soprattutto ad altre apparizioni casalinghe ha dimostrato, nonostante essere che sia andata sotto, di voler ribaltare la situazione, di voler portare a casa i tre punti Sì, atteggiamento giusto, determinato, ma i ragazzi adesso sono 15 giorni che hanno questa determinazione non solo la domenica ma durante tutta la settimana probabilmente la settimana dopo il Firenzuola, la domenica il Firenzuola, la settimana dopo ci ha fatto capire qual è la storia di questo campionato noi dobbiamo mettere le stesse armi delle altre squadre se non di più perché troveremo sempre squadre che giocheranno al 200% contro di noi e dopodiché se abbiamo anche questa lucidità di giocare a calcio allora sarà tutto più semplice E altro fattore che aggiungo io è sempre importante quando si gioca in casa avere il pubblico dalla propria parte oggi nonostante lo svantaggio, io l'ho definito un rigore forse anche generoso, il pubblico vi ha incitato dal primo all'ultimo secondo del match È vero ma tocca a noi trascinare il pubblico, evidentemente anche in svantaggio però il pubblico vedeva la voglia della squadra di ribaltare il risultato è normale che vedeva l'attaccamento alla maglia e quindi lo trascini per forza e quindi ci ha aiutato come dodicesimo a ribaltare la situazione Prestazione di cuore, determinazione, se si continua così il Rimini può arrivare davvero al primo posto in classifica se lo auguro anche i suoi giocatori perché abbiamo sentito prima Gambino, Pera, Tedesco proprio avere questo obiettivo in testa, è bello sentire i giocatori così carichi Sì, è bello sentirli però noi ci guardiamo, io mi guardo partita dopo partita intanto abbiamo fatto due vittorie, domenica abbiamo una partita secondo me molto difficile con una squadra che gioca molto bene al calcio, l'ho vista per cui ci dovremmo preparare bene per questa trasferta senza pensare a fare voli pindarici che è presto, il campionato è ancora lungo e sono belli perché vuol dire che la squadra ha voglia però con calma, gli obiettivi si ottengono partita dopo partita Mister Monterini, io ho riassunto così la partita, primo quarto d'ora il Fidenza si è visto molto nell'area del Rimini, avete rimediato anche questo rigore che vi ha permesso di passare in vantaggio poi dopo il gol vi siete forse troppo chiusi, Rimini è venuto fuori con il suo maggior tasso tecnico Sì, mi sento di condividere l'analisi anche se dobbiamo dare grandi meriti a Rimini come dicevo prima ai suoi colleghi, mi sembra che Rimini abbia offerto una prestazione di altissimo livello sia dal punto di vista tecnico ma anche da quello dell'intensità e quindi hanno legittimato la vittoria il nostro rammarico è quello di aver subito il terzo gol nel momento in cui magari avremmo dovuto gestire meglio le situazioni e portare la partita all'intervallo sul 2-1, nel secondo tempo ci hanno lasciato più possesso da squadra esperta che aveva speso tantissimo nel primo tempo ma noi non siamo riusciti a creare le condizioni per rientrare in partita Forse qualche ingenuità da parte della retroguardia vostra sul terzo gol, concorda? Sì assolutamente, ma guarda analizzando i gol abbiamo sempre qualcosa da rimproverarci ma credo a tutti i livelli il gol nasce sempre da un errore Nel primo eravamo in palleggio nel metà campo avversario e abbiamo subito una riportenza clamorosa Nel secondo abbiamo perso la marcatura uomo sull'angolo, su pera, penso che abbia segnato pera il 2-1 e sul terzo invece eravamo in superiorità numerica in fascia, ci siamo fatti attaccare dietro la schiena e abbiamo commesso errori banali ma più che della retroguardia che secondo me ha concesso poco a Rimini della squadra Grazie mille!